Il Circolo Mie di Londra, in collaborazione con l'ente Bergamaschi nel mondo del Regno Unito e i maestri del lavoro del Regno Unito, hanno organizzato domenica 13 agosto il picnic di Ferragosto presso i giardini di Rezens Park. Come Circolo Mie di Londra abbiamo organizzato questo picnic con l'intento di coinvolgere gli italiani che in questo Ferragosto sono qui nella capitale e cercare di creare comunità. È difficile organizzare un Ferragosto a Londra, soprattutto con il tempo che abbiamo, però siamo riusciti, l'iniziativa ha avuto successo e confido sul fatto che possa portare ad altre nuove iniziative per il futuro. La collaborazione dell'ente Bergamaschi nel mondo del Regno Unito, questa qui di Londra, di cui sono presidente generale, con il Mie è una collaborazione perché vogliamo aiutare gli italiani e vogliamo portare avanti sempre quello che è la storia e la cultura italiana nel Regno Unito, di cui gli inglesi amano cucina, storia, libri, tradizioni, tutto. Ed è bellissimo aver trovato Valeriano Drago, l'attuale presidente del Mie, una persona con cui si può collaborare e avere dei punti in comune per aiutare la comunità italiana del Regno Unito e aiutare molti altri italiani a sentirsi a casa anche se siamo all'estero. Questa è la cosa più bella che si può fare come associazioni e altre associazioni che si vogliono avvicinare al Mie o all'ente Bergamaschi o altre associazioni perché siamo una grande famiglia. Si è trattato di una straordinaria occasione di incontro tra italiani rimasti a Londra durante un'estate anomala caratterizzata da freddo e tempo incerto. Quello che vedete qui così è un bel incontro che il nostro presidente Radames organizza e organizza moltissimi eventi durante l'anno in ordine che noi italiani e amici degli italiani si ritrovano a scambiare molte opinioni e ricordi sull'Italia. Per questo devo ringraziare Radames per tutto il grande lavoro che lui fa. Tutti i partecipanti hanno contribuito alla riuscita del picnic portando dolci, soft drink e pasticceria mentre invece l'organizzazione ha provveduto a preparare pasta fredda e insalata di riso. Sono una traduttrice interprete italiana e sono anche un membro del MIE. Praticamente oggi grazie al tempo ha avuto luogo questo bel picnic che ci ha riunito un po' con i nostri connazionali e ci ha dato l'opportunità di incontrarci, socializzare, parlare e trascorrere una bella giornata insieme. Quindi speriamo che questi tipi di incontri possano anche svilupparsi più in là. Un'altra iniziativa promossa per l'aggregazione dei connazionali che apre in là la nuova stagione ricca di incontri con la voglia di rinnovarsi che coinvolgerà tutta l'età. Segui Complitaly sulla tua Google TV o sul tuo telefonino cercando nello store Complitaly+. Seguici sui canali social di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok oppure sul nostro sito www.complitaly.uk Regalaci un like, seguici e contribuisci a far crescere la tua televisione italiana nel Regno Unito. Complitaly TV, il tuo canale, sempre.